Il prossimo primo giugno nell'area del circuito di Balocco è in programma l'Investor Day di Fiat Chrysler. In questa occasione l'amministratore delegato Sergio Marchionne presenterà il piano industriale per il periodo 2018-2022. C'è attesa anche lo stabilimento di Termoli che impegna oltre 3.000 addetti trassunti a tempo indeterminato, contratti a scadenza e trasfertisti senza contare l'indotto. Proprio per i quasi 500 lavoratori con contratto di somministrazione è da poco arrivata la conferma di una proroga al 5 agosto. Si tratta di molti giovani, anche neodiplomati, che hanno potuto cogliere l'opportunità di un posto di lavoro nella fabbrica più importante della regione. Una realtà che attende di conoscere le novità del piano industriale e i riflessi delle strategie decise dall'azienda a livello internazionale. Cambi, motori, nuovi modelli, solo il primo giugno si potranno approfondire le dinamiche produttive per uno stabilimento che fornisce parti meccaniche da assemblare nelle carrozzerie di altri impianti del gruppo. La proroga di quattro mesi per quasi 500 lavoratori.